Ben ritrovati tutti in questo video. In questo video parliamo di un orologiaio molto promettente coreano e che fa orologi dalla Corea. Allora, voi sapete, magari il mercato dell'orologeria non attraverso una fase particolarmente positiva, voi sapete che abbiamo una rinascita dell'orologeria che è francese, è inglese, inglese moltissimo, è tedesca lo sapete ormai tutti ed è anche forse quella che complessivamente lavora meglio, secondo il mio giudizio, complessivamente, il che non vuol dire che sia tutto perfetto, no, complessivamente, e anche quella americana si sta risvegliando. C'è una produzione cinese di alto livello a cui ho dedicato già un altro video che avete visto e ora si affaccia anche la Corea del Sud. L'orologiano in questione, vi dico subito, il nome lo pronuncio all'inglese perché io non sono in grado di pronunciare un nome in coreano, quindi abbiate pazienza ma proprio non... Allora, Minun Yu. Questo orologiario è piuttosto giovane, nasce come artista. Lui infatti fu al terzo anno degli studi in Corea, è nato in Corea, in industrial art, che incontra la passione per gli orologi, cioè comincia ad interessarsi agli orologi e soprattutto capisce che gli orologi gli possono consentire di esprimersi e di esprimere le sue capacità sia progettuali che realizzative. E trova un maestro coreano con un nome che è ancora, secondo me, più impronunciabile, quindi io non mi c'è dentro nemmeno. Sappiate che questo maestro coreano aveva fondato un'azienda di orologia chiamata Free Ants Studio, cioè studio tre sfere, tre lancette. Insegna un po' tutto a Minun Yu, che per altri versi è anche un'autodidatta invece, perché lui comincia ad acquistare libri, riviste, orologi. Il libro più importante fu Watchmaking di George Daniels, un grande classico che come libro base è considerato da base poi fino a un certo punto, ma comunque spiega molto bene quel libro di George Daniels. Quindi lo consiglio, visto che spesso mi chiedete di libri e io ho delle difficoltà. Ecco, ne approfitto perché questo Watchmaking di George Daniels è un grandissimo libro e tutto sommato, anche se non è il livello più semplice, però è spiegato tutto molto bene, molto molto bene. Ecco perché ha così tanto successo anche per i principianti. Insomma, fra libri e tutto raggio di un maestro coreano, lui apre due anni fa la sua azienda a Seoul. Ora, l'orologeria in Corea del Sud. In realtà, stando a Hongdiki, in Corea del Sud l'orologeria ha una certa tradizione, a me del tutto sconosciuta. Solo che cosa è accaduto? È accaduto naturalmente che a un certo punto c'è stata la guerra dei prezzi e la manodopera coreana, con lo sviluppo del paese, come sempre accade, è iniziata a costare sempre di più e tutta quella tradizione si è in gran parte trasferita in Cina. E quindi il governo coreano puntò su altri settori. Voi sapete che l'economia coreana è molto guidata dal governo e puntò su settori tipo l'automobilistico, il cantieristico, le acciaierie e la tecnologia. Quindi l'alta tecnologia, l'elettronica, eccetera. Quindi l'orologeria non fu sponsorizzata tra i campi su cui investire dal governo della Corea del Sud. Lui apre questo studio e presenta questo primo orologio, Carved, mamma mia, Watch, cioè orologio scolpito. Orologio scolpito. E capiamo il significato di questo nome, orologio scolpito, guardando il quadrante. Perché il quadrante, anzitutto tutti gli indici sono tagliati a mano, ma soprattutto c'è questa decorazione centrale che se fosse geometrica chiameremo giosce. Ed è fatta tutta a mano. Ma qui non è geometrica, cioè è casuale. Cioè è un disegno casuale. Infatti a seconda di come lo guardi ti può sembrare a onde, e ti può sembrare... Ma non è nulla di tutto questo. C'è tra l'altro, che trovo simpatico, l'autore, Minun Yu, come lo chiamo io, il quale dice, beh, nell'orologeria tutto deve essere esatto, previsto, prevedibile. Io qui ho voluto introdurre un elemento di ambiguità. Mi piace questa affermazione, guardate, non lo sto dicendo per prendere in giro, lo sto dicendo perché credo veramente che sia un'ottima idea. Questo quadrante, tra l'altro, è costruito su una base argentea, non ho capito se è argentea o d'argento, ma questo è un altro discorso, su quale ci sono tre ring che sono avvitati dietro. Il terzo ring serve per il numero di serie. Ecco, questa cosa dei ring applicati e avvitati va benissimo sui quadranti artigianali. Ma attenzione, le viti devono essere davanti. Certo che è meno pulito, ma con le viti davanti hai una maggiore artigianalità. Dufour mette le viti davanti, Smith mette le viti davanti, proprio perché è bello vedere le minuscole vite avvitate. Ti danno proprio l'idea, non del pezzo unico ricavato, con la macchina a cinque, col tornio a cinque dimensioni, diciamo, a cinque vie, non so come si dice, a CNC, a controllo numerico. Ti danno proprio l'idea dell'artigianalità. Infatti i migliori watchmaker li fanno avvitati davanti, non dietro. Quindi questa è una piccola critica che mi sento di fare. E ora, soprattutto, guardiamo il calibro. Guardate l'unica immagine del calibro che ho. Guardate qui. Guardate che razza di Anglas si indovina, gli spigoli e tutto. E sapete cos'è questo calibro? Questo è un Eta Pesot 7001. Cioè è il famoso Unitas, insomma, è lui, è lui, è lui. È lui in tutto il suo splendore, ma con ponti ridisegnati, rifinito da Dio, almeno da queste foto questo si vede, rifinito a mano da Dio. E quindi io lo trovo stupefacente. Vale molto di più questo Eta Pesot 7001, piuttosto che un calibro di manifattura, ma che però è rifinito industrialmente. Questo è rifinito a mano. Purtroppo non conosco le dimensioni di questo orologio, ma il Pesot 7001 è un calibro grande, quindi presumo che le dimensioni dell'orologio non siano piccolissime. Però l'orologio, secondo me, è molto bello e devo dire che le sue finiture, la sua artigianalità conquista. Ora lui, credo, ha un'ottantina di richieste di questo orologio con molti anticipi già versati, ma la cosa che non si aspettava è che molti lo apprezzano anche perché è coreano. E allora lui dice, io nei prossimi orologi cercherò di inserire nella tradizione orologiera mondiale, tra virgolette, dell'alta orologeria, cercherò di inserire degli elementi stilistici tratti dall'arte e soprattutto dall'architettura della Corea del Sud. Aspettiamo di vedere di cosa si tratta. Questo orologio viene venduto a un prezzo di 18 mila dollari americani, quindi, insomma, per essere un orologio artigianale, anche se il calibro non è di manifattura, a me sembra una roba rifinito così davanti e dietro, a me sembra una cosa che anche nel prezzo c'è. C'è molto, perché questo orologio rispetto a un calatrava da 30 mila euro vale 10 volte di più, 20 volte di più e forse ancora poco. Forse è ancora poco. Benissimo. Io vi ringrazio per questo video è tutto e ci sentiamo e ci vediamo al prossimo video. Se vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi, se lo ritenete sarebbe di supporto al canale ed è sempre importante, e al prossimo video. Ciao! 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 Ciao!